E' stato diagnosticato in Puglia il primo caso di SMA all'atrofia muscolare e spinale attraverso uno degli screening neonatali obbligatori. La regione infatti è l'unica in Italia ad aver previsto per legge l'esecuzione dei controlli. Nelle scorse ore nei laboratori della genetica medica dell'ASL Bari, i test effettuati hanno permesso di scoprire la patologia in un bambino di appena 7 giorni, permettendo di bloccarla con una terapia precoce prima che sia troppo tardi. Lo screening obbligatorio è partito lo scorso 6 dicembre e fino ad oggi sono stati quasi 8.000 i test genetici effettuati. L'unità operativa diretta dal dottor Mattia Gentile ha intercettato attraverso l'esame del DNA il primo neonato affetto da SMA a valle degli analisi che vengono svolte quotidianamente su tutti i bimbi nati nei 26 punti nascita della Puglia. Il test molecolare ha rilevato nel DNA del neonato l'anomalia genetica che nei prossimi mesi avrebbe provocato la degenerazione. Soddisfatto il governatore Emiliano, siamo l'unica regione in Italia, dice, ad aver stabilito per legge lo screening obbligatorio della SMA. Averlo fatto per tempo consentirà a questo neonato di ricevere la cura più adatta e la possibilità di avere assieme alla sua famiglia una vita migliore. Nei mesi scorsi siamo intervenuti a sostegno di altre famiglie con bambini un po' più grandi. Oggi grazie alla scienza e alla medicina possiamo intervenire in netto anticipo con la fondata speranza di poter raggiungere esiti riconfortanti.